Fa tappa a Montesilvano l'evento di degustazione bianco-azzurro organizzato da Confesercenti Abruzzo. Un connubio tra i vini bianchi rappresentanti le eccellenze della regione e il pescato fresco dell'Adriatico proposto in chiave gourmet. Come si sposano i prodotti dell'entroterra con il pescato dell'Adriatico? Questo è un connubio perfetto tra mari e monti del nostro Abruzzo perché sono a pochi chilometri, a 50 chilometri mare e monti e sulle nostre dolci colline abbiamo tutti questi vigneti che danno soprattutto vini dai colori brillanti, dai sentori nitidi, una struttura, una bellissima sapidità e molto molto particolari. Caratteristiche che si sposano molto bene con le ricette dello chef di Casa Matta. Siamo qui con lo chef Mauro Del Pizzo di Casa Matta che ha creato gli abbinamenti gourmet per questa degustazione. Per questa occasione abbiamo creato 5 piatti, 5 finger, da proporre con la degustazione dei vini in degustazione questa sera appunto. Abbiamo in ordine una sarda in carpione fatta con una cipolletta dorata cotta con i lamponi, uva passa e pinoli. Poi abbiamo una panzanella con lo sgombro al vapore, abbiamo un bonbon con un suro marinato a caldo con una verza viola marinata e una maionese alla salsa ponzu. Poi abbiamo fatto una mille foglie di triglia e patate al timo. E infine abbiamo fatto delle alici marinate su un crostone con peperone crusco affumicato. Da Bianco Azzurro c'era suolo a mare, eventi degustativi sia per conoscere i vini abruzzesi ma anche per conoscere le prelibatezze del pescato della regione. Sì, Bianco Azzurro nasce con l'obiettivo di far conoscere il pescato abruzzese soprattutto ai locali, quindi non tanto ai turisti ma al residente di qualità del pescato locale. Poi è naturale che è un ottimo connubio con il Bianco, con i bianchi abruzzesi e quindi da qui l'evento anche per i turisti per conoscere soprattutto il territorio. Perché l'obiettivo è duplice, dare l'opportunità di conoscere le cantine, la qualità dei vini, la qualità del pescato ma anche sapere dove sono le cantine e quali sono i territori. Quindi è una doppia opportunità turistica ed enogastronomica che fa il paio poi con cera suolo a mare che è poi l'evento dell'estate di luglio fino ad agosto che avrà tante tappe, partiamo da San Salvo fino a Giulianova in diversi punti per poter far conoscere lì 40 cantine abruzzesi che faranno conoscere il loro cerasuolo. Un cerasuolo che ce l'abbiamo solo noi abruzzese e montepulciano e quindi deve essere per forza invidiato e deve diventare il prodotto da aperitivo. Quindi noi ci dimentichiamo un pochettino delle nostre opportunità. Con questo fa anche il paio quest'anno a Biancazzurra abbiamo trabocco lo spumante d'Abruzzo Doc che insomma tenterà e noi ce l'auguriamo con tutto il cuore di diventare il prodotto e la linea di aperitivo abruzzese. Quindi Confesercenti oggi ma anche a cera sulla mare punterà a far conoscere queste tre soluzioni. Il buon mangiare abruzzese, le buone cantine abruzzesi e il buon territorio abruzzese. Grazie.